cari amici di rado maria andiamo al nostro programma la lettura cristiana della conaga della storia siamo alla vigilia cari amici del 25 marzo domani una giornata particolare perché il santo padre come sapete consacrerà alla madonna al cuore immacolato di maria la russia e l'ucraina in unione con tutta la chiesa quindi anche questa consacrazione verrà fatta oltre che a roma anche a fatima ma nel medesimo tempo sono coinvolti tutti i vescovi del mondo e tutti i fedeli sono coinvolti in questa consacrazione quindi dobbiamo anche interiormente prepararci fra l'altro è anche domani il giorno in cui tutte le radio marie del mondo rinnovano la loro consacrazione alla vergine dell'annunciazione che è la padrona di radio maria e poi anche il 25 marzo il giorno in cui la madonna come sempre da speciali messaggi e almeno quelle che ci ha dato tante volte 25 aveva una risonanza particolare e quindi anche per questo siamo in atteggiamento della paghiera vigilante perché cari amici forse vedendo le immagini televisive ci rappresentiamo la guerra come qualcosa di lontano o comunque come qualcosa di circoscritto e limitato in realtà questa consacrazione a mio parere proprio la madonna l'ha voluta perché i pericoli che il mondo corre sono i più grandi possibili cioè noi stiamo in questo momento stiamo vivendo certamente la fase più drammatica della storia del mondo ma io della storia dell'uomo ovviamente perché per la prima volta c'è il pericolo concreto che l'uomo ponga fine alla sua storia e ponga fine anche l'esistenza della terra usando quelle armi che ha costruito di cui ha riempito gli arsenali che sono minacciate sono minacciate anche adesso anche ieri per dire e fanno parte dei protocolli di guerra nel caso che appunto le armi precedenti non siano state sufficienti ovviamente da questa situazione vi metto conto che satana in mano ha in mano la leva del comando cioè satana come ha detto la madonna regna e alla portata di mano quello che lui vuole realizzare cioè vuole distruggere le nostre vite e il pianeta sul quale viviamo la madonna ce lo ripete dal 1991 e già allora la madonna disse che satana vuole distruggere le nostre vite e il pianeta sul quale viviamo allora accade l'unione sovietica ma questo non accade per intervento divino adesso si ripropone questa situazione ma in un modo più plateale cioè cioè c'è la minaccia proprio pubblica le armi atomiche non è affatto escluso che si stiano già usando armi chimiche comunque sicuramente armi proibite dalla convenzione di ginevra come le armi al fosforo a quanto pare proprio nella giornata dell'altro ieri sono state usate il che comunque indica un escalation e da tra parte sono anche le dichiarazioni da parte dei dirigenti russi degli intellettuali russi dall'intelligenza russa di ovviamente se è necessario si possono usare anche le armi atomiche incominciando da quelle cosiddette tattiche che hanno un raggio di distruzione minore però con una di quelle si può distruggere una città come Kiev per dirne parole povere tutto questo è sul giornale di oggi cari amici non è un'invenzione di nessuno è molto semplicemente quello che la Madonna ci ha detto ormai da 40 anni c'è il pericolo della distruzione dell'opera della creazione e della redenzione c'è il massimo pericolo della storia umana queste cose ormai vengono dette pubblicamente scritte e da parte la Madonna ce l'ha detto e ridetto due volte in questo tempo di pandemia quando appunto nel messaggio di due anni fa esatti nel 2020 il giorno dell'annunciazione ci ha detto di rafforzare la nostra intimità con Dio perché Satana vuol distruggere le vostre vite perché Satana regna ha detto e vuol distruggere le vostre vite in pietra su quale vivete poi nel mese di settembre la Madonna ha addolcito diciamo questa prospettiva dicendo la medesima cosa ma con un'introduzione che ci dà molta speranza cioè ci ha detto ma Dio vi ama e vuol salvare le vostre vite e il pericolo su quale vivete però io mi chiedo cosa noi in fondo noi che abbiamo accolto il messaggio della regina della pace noi che sappiamo quanto abbia fatto che il miracolo abbia fatto la Madonna la Madonna in passato grazie al digiuno e alla preghiera con la quale si possono fermare le guerre per quante violente esse siano noi abbiamo l'esperienza la memoria storica di come la Madonna abbia promesso la conversione della Russia e la prima fase di questo primo passo di questa conversione è stato già compiuto cioè la caduta del comunismo ateo e questo poteva comportare sì una guerra mondiale e nel medesimo tempo la ritrovata libertà religiosa non solo in Russia ma anche negli altri paesi europei quindi questo noi abbiamo visto già la potenza di Maria la sua forza di intercessione il suo intervento nella storia intervento salvifico la Madonna però ci ha accompagnato in tutto questo tempo con la luce meravigliosa che ci ha dato fin dal primo anno delle apparizioni cioè noi per quanto noi per quanto siamo preoccupati io sono preoccupatissimo per quello che leggo cioè per la possibilità concreta che si usino armi atomiche ovviamente tattiche all'inizio ma poi la risposta potrebbe essere quella di armi atomiche che distruggono la terra c'è per esempio un'intervista di esperti sui giornali oggi che dicono che se dovesse scattare un'arma tattica un'atomica tattica ci sarebbe subito un racconto risposta che potrebbe portare in pochi minuti alla morte di 90 milioni di persone scusate se vi dico queste cose ma sono scritte sui giornali popolari sono sono vere soprattutto sono vere perché poi sono cose che la Madonna ha fatto vedere i veggenti cioè nute che vengono qui a dire ma sì ma no i veggenti quando ho visto quello che hanno visto si sono spaventati sappiamo che quando ho visto il settimo segreto sono stati spaventatissimi tanto da chiedere alla Madonna una diminuzione che la Madonna ha concesso dopo tanta preghiera quindi queste ormai sono realtà che non si possono più nascondere perché la televisione le porta in casa queste immagini e ovviamente vanno vanno spiegati anche i bambini cioè a bambini va detta la verità che ci viene dalla fede cioè che la Madonna è con noi e la Madonna non permetterà che il mondo sia distrutto perché questo è vero questo ce l'ha detto la Madonna ce l'ha assicurato ci ha detto che se un cuore immacolato avrebbe trionfato ci ha detto che nel tempo dei segreti che a mio avviso comunque è un tempo dal quarto al decimo segreto in cui comunque siamo in guerra lei è qui come regina della pace quindi ci saranno sconvolgimenti legati alla guerra e la Madonna ci ha detto che lei in questo tempo cambierà il mondo cambierà i cuori e salverà le vite quindi e come vedete quanto è importante vivere in questo momento affrontare il futuro che non è un futuro lontano il futuro è domani dopo domani come è importante affrontare il futuro con lo sguardo dalla fede innanzitutto ovviamente dalla fede in Dio nella fede in Dio provvidente nella nella diciamo nella fiducia della Vergine Maria alla quale consacriamo questi due paesi che potrebbero farsi del male a vicenda e comunque in questa luce dobbiamo mettere anche la la nostra fiducia nella presenza di Maria Meggiugorie perché se la Madonna è qui da così tanto tempo ed è qui oggi ci ha avuto i messaggi che ci ha dato quello che della Madonna Miriana dove la Madonna ha detto io sono con voi dove la Madonna ci ha rassicurato che Cristo è la luce del mondo è in mano tutto e di guardare a Lui di ricorrere a Lui quindi certamente la fede cattolica ci dovrebbe bastare per superare questo momento di pericolo ma poi se Dio ha ritenuto molto importante direi necessario questa presenza di Maria per chiamare l'umanità alla conversione per l'ultima volta questa lunga presenza di 40 anni che poteva durare ancora molto a lungo fino a quando incomincerà il tempo della pace vuol dire che questa presenza è necessaria oggi è necessaria di fatto io penso a quelli che non hanno questa luce che per grazia di Dio noi abbiamo di sentire la Madonna che ci dice io sono con voi non abbiate paura ce l'ha ripetuto nell'ultimo messaggio a Miriana sentendo queste parole noi ci rassicuriamo noi pur in mezzo a tante voci di catastrofi perché è chiaro che la possibilità c'è è concreta è minacciata è presa sul serio comunque però noi non ci abbattiamo non ci scoraggiamo non gettiamo la spugna crediamo a quello che la Madonna ha detto con la preghiera e il digiuno si possono fermare le guerre per quante violente esse siano la preghiera può operare miracoli nei cuori e nel mondo crediamo a tutto questo e non stiamo a guardare o non stiamo lì a deprimerci o non stiamo lì a come dire a cercare salvezze arrampicandoci sugli specchi non si salva nessuno se scopri un conflitto nucleare quindi non ci sono è molto meglio morire che essere vivi come diceva il messaggio di Akita allora abbiamo l'arma della salvezza l'arma della vittoria che è il Santo Rosario questa consacrazione ai cuori di Gesù e di Maria perché a mio avviso la consacrazione al cuore di Macrotto di Maria è sempre orientata a quella del Sacratissimo cuore di Gesù questa consacrazione avrà un effetto mirabile sul mondo e sulla Chiesa non c'è dubbio non c'è dubbio perché è sentita perché la gente adesso capisce la Chiesa sta capendo sta capendo perché è qui la Regina della Pace e perché ha detto di chiamarsi Regina della Pace la Chiesa sta capendo che i uomini sono talmente stolti che seguendo la loro rivincita il loro desiderio di vendetta di supremazia sono disposti a tutto anche di giugere il mondo e perché? e perché sono indiavolati posseduti da Satana questa è la verità nuda e cruda cari amici diversamente la Madonna non avrebbe detto che è Satana regna per cui come non essere grati alla Madonna che già all'inizio cari amici ci ha rivelato i dieci segreti la Miriana ha tutti i dieci segreti col suo rotolo dove sono scritti perché anche questo particolare è importante ma anche tutti gli altri divergenti tre di quali hanno dieci segreti tre ne hanno nove e hanno ancora le apparizioni quotidiane la Madonna fin dall'inizio ha avuto tutti i segreti a tutti i sei veggenti eccetto i tre che ne hanno soltanto nove e questo ci fa capire a mio parere che non è ancora imminente la rivelazione dei segreti perché nel momento della rivelazione dei segreti una sola persona avrà ancora le apparizioni quotidiane e dureranno fino a che sarà necessario comunque oltre i dieci segreti anche nel tempo in cui il mondo verrà di nuovo come dire vedrà la sua rifioritura noi dobbiamo essere grati alla Madonna che ci ha fatto questa speranza fin dall'inizio cioè noi sappiamo dei segreti qualcosa non è che sappiamo poco sappiamo dell'importanza del terzo segreto che sarà un segno sulla montagna un richiamo a tutti i popoli che la Madonna c'è che le apparizioni sono vere che Cristo è il re come dice lui ha detto lui fortemente nel messaggio a Miriana e che la luce del mondo ha detto la Madonna è il salvatore quindi ci sarà questa questa epifania meravigliosa del segno sulla montagna al terzo segreto perché poi dal quarto al decimo cari amici sono momenti spaventosi che hanno spaventato anche i veggenti quando li hanno visti la Madonna dando il grotto alla Miriana ha detto Miriana ti ho fatto vedere cose terribili queste sono le espressioni della Madonna quindi le espressioni della Madonna sono da prendere tutte molto seriamente però noi sappiamo che la Madonna ha un piano per portarci in collumi tutti quelli che vogliono portarci in collumi attraverso questo tempo certamente prima di tutto la salvezza eterna delle anime perché tutti siamo tutti siamo diciamo così chiamati a passare attraverso la strettoia della morte che per un cristiano è una strettoia diciamo una strettoia che la fede allarga cioè diventa una porta del paradiso per un cristiano la santa morte diventa una porta del paradiso quindi questo prima di tutto da parte nostra la preoccupazione giusta ad avere l'anima in grazia di Dio di essere ricolmi di Dio di essere il tempio della Santissima Trinità poi qualunque cosa accada ci troviamo in paradiso insomma ha detto in parole povere ma la Madonna ha detto molto di più ha detto che il mondo continuerà che avrà un tempo di pace ha anche detto che un giorno capirete l'ha detto alle mamme quanto sia importante avere i figli quindi questo perché ha detto questo parolo la Madonna non lo capiamo possiamo fare solo delle ipotesi però l'ha detto perché c'è anche delle persone che dicono ah in questo tempo qui non voglio avere figli no la Madonna ha detto che è bene avere i figli vedete quanto è importante aprirsi alla vita l'ha detto lei lei sa il futuro noi non lo sappiamo e poi siamo attenti che Sadr vuole anche paralizzarci con la paura quindi cari amici di qui di quello che vi ho detto come dovevo essere grati alla Madonna perché ci ha portati fino ad oggi con tante luci con la sua presenza con la prospettiva della speranza perché guardate che quelli che non hanno la fede e quelli che non hanno questa certezza della presenza di Maria come regina della pace che ci guida come lei ha detto Dio ha mandato a me a voi per guidarvi ha detto nel messaggio del 25 febbraio quelli che non hanno questa certezza io mi chiedo come cioè evidentemente per loro tampe scontato che con la morte finisce tutto e via insomma la morte sarebbe una liberazione non lo so però vedo che ormai sui giornali di oggi più seri più i più attenti alla situazione dicono che attenzione l'uso di armi atomiche è detta parte se c'è una cosa che bisogna riconoscere a Putin è che lui da tempo dice cose che poi ha fatto non ha mai non ha mai broffato non ha mai broffato e ho letto anche diversi articoli di suoi collaboratori che poi sono staccati da lui eccetera e che dicono che lui non ha mai broffato cioè lui ha voluto vuole ricostituire l'Unione Sovietica anzi l'impero zarista e lo vuole fare a tutti i costi quindi ha dentro in sé anche un atteggiamento di rivalsa un atteggiamento di vendetta quasi e di odio perché lui era figlio di un paese era quindi KGB quindi figurate voi che formazione ha avuto era un grande paese che comandava nel mondo adesso lo è molto di meno e quindi questa questa cos'è che questa la Madonna l'ha ridotto come l'ha ridotto insomma la Russia è caduta da sola non l'ha fatta cadere gli americani la Russia la Russia l'ha fatta cadere San Giovanni Paolo II la regina della pace e la caduta della Russia è stata una grazia per tutti i russi sia ben chiaro che sono passati comunque da un da un da una pesante dittatura a una democratura per così dire adesso poi sono ritornati dalla dittatura poveri loro insomma questa dunque è la grazia di avere accordo i messaggi della regina della pace la grazia di camminare con lei è la grazia di avere una prospettiva davanti a noi di fiducia ed è anche l'appello a tutti i nostri ascoltatori a partecipare personalmente alla consacrazione di domani poi alla fine di questa trasmissione vi esporrò come potete e dovete fare anche voi la vostra personale consacrazione la vostra e quella della vostra famiglia perché questo è importante perché ovviamente se il Papa fa la consacrazione e sta andando a vedere no noi dobbiamo partecipare quindi fratto vi ho messo già sul blog la preghiera che il Santo Padre domani reciterà per la consacrazione dell'Ucraina e della Russia vi ho messo anche a punto il pensiero che ho fatto ieri sera per come fare la nostra consacrazione in modo tale che sia una vera consacrazione questo però lo sviluppiamo alla fine di questa trasmissione adesso andiamo a vedere com'è la situazione com'è la situazione la situazione è molto pericolosa cioè in pratica in pratica è successo questo quello che poi da parte i giornali i commentatori diciamo anche gli esperti sono come fate la svelta a dire bisogna leggere la controinformazione ma la controinformazione da chi è alimentata insomma sì ci sono alcuni che fanno il lavoro bene ma poi la maggior parte è gente che cerca di farsi largo in queste situazioni ma poi poi raccatta raccatta foglie secche insomma cioè la realtà è questa cioè è che Putin quando ha detto di di alzare l'allerta per la bomba atomica ha detto una cosa che è stata fatta ha detto una cosa che sta coltivando nel caso che non fosse riuscito a ottenere quello che voleva ottenere ora le forze in campo sono molto chiare nonostante i mezzi usati di spiego di armamenti anche pesanti come i carri armati come gli aerei come le bombe come i cannoni in realtà in realtà Putin si trova diciamo così una conquistazione sulla città le ha distrutte sparando sulle case sugli ospedali sugli orfanatrofi sulle chiese su tutto quindi lo vedete anche voi basta vedere le fotografie del satellite e vedete città distrutte completamente però sotto i sotterrani c'è la resistenza ucraina ora lui non può permettersi Putin di 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 recedere e di in qualche modo di fermare un amnistizio non può assolutamente perché forse rischerebbe di perdere pure la poltrona e perciò adesso c'è il pericolo che usi armi chimiche e armi nucleari questo è un pericolo che è reale e che comunque è sottolineato dai stretti collaboratori di Putin e quindi da quelli che gestiscono il ministero della difesa per cui non siamo qui a controinformazione occidentale o cose di questo genere ve l'ho già detto Putin è una persona che va presa sul serio quando parla fa quello che dice di voler fare l'ha fatto in passato l'ha fatto in passato non è che non l'abbia fatto l'ha sempre fatto allora adesso cosa succede che non riuscendo a non riuscendo a ottenere quello che vuole sta passando a darmi a darmi che a parte che già avevo usato bombe a grappo che non si possono usare adesso a quanto pare in realtà ieri ho usato una bomba al fosforo che è micidiale e che è che è proibita cioè nel trattato che è sottofatto a suo tempo fra Russia e Stati Uniti fra i vari paesi del mondo quindi sottoscritta proprio un protocollo sottoscritto a Ginevra c'è la firma che non si sarebbero usate le armi al fosforo a quanto pare invece è già stato usato un'arma al fosforo c'è la possibilità di usare i gas distruttivi i gas velenosi cosa che Putin ha fatto in in Siria quindi quello che ha fatto in Siria lo può fare benissimo lo farà forse non lo so e certamente avendolo già fatto e trovandosi in una situazione in cui non può recedere per motivi di orgoglio personale potrebbe usare i gas fra qualche giorno e potrebbe arrivare a usare anche le bombe tattiche magari per giugere una città come Kiev questo è quanto molti commentatori internazionali dicono ma non è che lo dicono diciamo gli occidentali sono prospettive che vengono dai suoi collaboratori vediamo allora brevemente tanto per andare a stare a essere sintetici questo articolo del Corriere che ti riporta diciamo così il grado di pericolosità al quale è arrivata la guerra quindi non riuscendo a uscire fuori dal fango dove si sono infognati i suoi carri armati Putin ha davanti a sé armi per l'escalation che sono i gas e gli ordini nucleari tattici allora vediamo leggiamo qualche brano di questo articolo il governo americano è stato il primo a formulare la terrificante ipotesi cioè che Vladimir Putin potrebbe far ricorso ad armi chimiche biologiche e nucleari è lo scenario estremo traumatico la prima esplosione atomica nel cuore dell'Europa 76 anni dopo Hiroshima e Nagasaki il portavoce del cremelino Dimitri Peshkov quindi un portavoce del cremelino quindi è il portavoce di Putin in pratica il portavoce del cremelino Dimitri Peshkov ha detto alla CNN che è la grande rete televisiva americana che nel caso di minaccia alla sicurezza nazionale la Russia potrebbe usare le forze di terrenza nucleare Peshkov ha deliberatamente mandato un messaggio ambiguo allora quindi Peshkov praticamente ha detto che nel caso di minaccia di sicurezza nazionale poi con la sua minaccia è lui che lo stabilisce o il suo capo vediamo allora quali sarebbero le forze di deterrenza nucleare che potrebbero essere usate cosa sono intanto le armi chimiche e biologiche andiamo quindi per gradi sono munizioni devastanti per la loro componente di esplosivo associata ai gas o tossine in grado di diffondere il contagio negli ultimi anni sono stati impiegati da Assad in Siria con l'avallo del Cremilino i servizi segreti americani e britannici temono che Putin possa far ricorso per piegare la resistenza ucraina perché si parla di minaccia nucleare quindi quelli dei gas li ha già usati lui con Assad perché sono loro che danno gli ordini in Siria allora in che cosa consisterebbe la minaccia nucleare a meno nel primo passo Putin aveva già comunicato al mondo di aver messo in stato di allerta l'arsenale il 27 febbraio del 2002 tre giorni dopo aver ordinato l'attacco in Ucraina molti analisti politici occidentali avevano scrollato le spalle dicendo che sta bluffando ma i generali invece avevano iniziato a preoccuparsi chi conosce Putin dice che Putin non bluffa mai dice poi quello che farà fin dove può arrivare Putin Kate Kellogg già consideri ad interim per la sicurezza nazionale di Donald Trump e poi dal 2018 al 2021 advisor del vicepresidente Mike Pence dice al Corriere queste parole non dobbiamo pensare alle armi nucleari con in mente la fine del mondo i russi in particolare hanno sviluppato bombe tattiche con un raggio d'azione relativamente limitato diciamo più o meno di un chilometro e mezzo il punto è che nessuno sa fino a che punto si possa spingere Putin in questi giorni abbiamo avuto la conferma della sua assoluta mancanza di scrupoli poi sai quando si è diciamo si è nel sul riscaldamento psicologico come quando la si fa a puni all'inizio la si fa a puni poi quello che perdi è fuori coltello e succede così osservazioni come quella del generale Kellogg fanno breccia soprattutto fra i paesi del fianco est della Nato e in cominciare dalla Polonia dei paesi baltici anche per questo dice l'ambasciatore polacco presso la Nato che l'alleanza atlantica dovrebbe rivedere la sua strategia purtroppo con Putin non possiamo escludere nulla cioè non possiamo escludere che usi le armi atomiche e tattiche o anche peggio Putin ha messo in allerta l'assenale il 27 febbraio non tutti lo considerano un bluff vediamo allora cosa sono queste armi nucleari tattiche che Putin ha a dosi industriali ne ha 2000 e gli occidentali ne hanno solo 100 in Europa dunque cosa sono le armi nucleari tattiche le russie ne hanno circa 2000 nei depositi non pronte all'uso gli europei un centinaio stoccati in diverse basi comprese quelli italiani di Ghedi e di Aviano si tratta di ordini più piccoli rispetto a quelli classici da usare in battaglia se l'armata non dovesse riuscire a vincere con le armi convenzionali questo è il punto della questione che l'armata russa non riesce a vincere con le armate convenzionali questa opzione molto meno distruttiva rispetto a Hiroshima potrebbe essere un modo per convincere l'avversario ad esistere potrebbe essere un modo per provocare una de-escalation attraverso un'escalation un'opzione tipica della dottrina militare russa cioè in poche parole non riuscendo a vincere con le armi tradizionali vuole provocare una ritirata una ritirata del nemico attraverso un passaggio un cambio d'armi che passa da quelle convenzionali a quelle atomiche questa è un'opzione tipica della dottrina militare russa non vado avanti chi vuole leggere l'articolo lo trovo sul nostro sito internet radomeria.it nella sezione articolo in evidenza vi dico soltanto qual è l'effetto di queste armi nucleari tattiche la loro natura meno distruttiva però potrebbe essere un'illusione il loro utilizzo potrebbe portare a un conflitto nucleare aperto una simulazione degli esperti di Pristom mostra quale potrebbe essere la dinamica la dinamica cioè potrebbe succedere così Mosca lancia un'arma nucleare tattica di avvertimento la Nato risponde e nel giro di poche ore si conterebbero 90 milioni di morti allora queste cose qui sono cose spaventose che possono accadere che erano già preannunciate in un certo senso nei segreti dal quarto al decimo benché non non si sappia niente però si è visto lo spavento dei veggenti ci sono testimonianze molto molto chiare insomma a questo riguardo io stesso una volta ero presente un'apparizione di Ivanca un 25 giugno quando Ivanca aveva l'apparizione annuale che a tuo momento dice che alla fine dell'apparizione Ivanca ha avuto il messaggio e ha detto c'era lì Laurentin che fece anche la traduzione disse che ha visto uno spettacolo una cosa che ha fatto scandalo ce l'ha spaventata quindi queste d'altra parte della Madonna ha detto sono cose terribili quindi a mio parere ipotizzare l'uso di armi nucleari dal quarto al decimo segreto è una opzione è una ipotesi che sta sul tavolo poi è chiaro che bisogna essere sempre molto elastici cioè bisogna seguire la Madonna perché perché molte cose della Madonna le capisci dopo anche quella frase che ha detto la Madonna nel 1981 quando ha fatto la profezia sulla Polonia ha fatto la profezia sull'Occidente e poi anche ha fatto la profezia sulla Russia dicendo che il popolo russo sarebbe stato il popolo che più onora Dio però è una prospettiva che forse in parte si è realizzata perché comunque la libertà religiosa è stata benefica per la Russia dopo la caduta del comunismo ma parlare di conversione del popolo russo che sarebbe il popolo che più onora Dio adesso mi pare esagerato sono quelle profezie che ovviamente troveranno la loro pienezza di completamento quando trionferà il cuore immacrato di Maria insomma quindi la prospettiva è futura diciamo quindi che le armi possono nucleare possono essere l'oggetto dei segreti almeno alcuni dal quarto al decimo un'ipotesi a mio parere che sta sul tavolo però la Madonna ci ha avviso tre giorni prima sono eventi locali di una regione di un posto particolare ci ha avviso tre giorni prima sono tre giorni in cui dovevo prendere le nostre decisioni tre giorni di preghiera di decisione e forse anche di salvezza fisica non lo sappiamo ma una cosa è certa che la Madonna ha un piano per impedire a Satana di distruggere l'umanità questa è la cosa più certa che c'è in tutta questa riflessione cioè che la Madonna è qui come regina della pace impedirà a Satana di distruggere il mondo come lui vuole e quindi il mondo senza Dio crollerà perché dopo quello che gli uomini hanno fatto con le loro armi capiranno che bisogna eliminarle tutte insomma e che bisogna eliminarle tutta la costruzione mentale del mondo senza Dio insomma come ha detto Miriana attraverso i segreti la Madonna ha deciso di cambiare il mondo per quello che accadranno però cari amici noi pensiamo all'anima per il resto la salvezza è possibile la Madonna la Madonna ci ha detto ci saranno tempi nuovi ci sarà un tempo di primavera questo lo ribadisco con forza in questi momenti difficili bene carissimi adesso purtroppo è passato un po' di tempo vediamo un po' adesso più o meno dunque c'è un bellissimo articolo sull'avvenire magari ve lo leggerò un altro giorno che è un esperto che analizza molto bene come in quale situazione si trova adesso il patriarcato di Mosca che è guidato dal patriarca Kirill perché di fatto il patriarcato di Mosca adesso ha perso l'Ucraina cioè la parte dei fedeli dell'Ucraina che erano fedeli al patriarcato di Mosca c'è la chiesa latina c'è la chiesa latina con la cattolica c'è la chiesa greco-cattolica e la chiesa diciamo ortodossa che fa capo al patriarca ucraino ma che è comunque diciamo dipendente dal patriarcato di Mosca ora questa parte della chiesa ucraina ortodossa quindi questa parte della chiesa si stacca dal patriarca Kirill e quindi praticamente Kirill ha perso l'Ucraina e ha perso la maggioranza dei fedeli perché è soprattutto la chiesa ucraina ortodossa che porta molti fedeli al patriarcato di Mosca e questo articolo è molto interessante perché ti racconta tutta questa storia e ti mostra come il patriarca Kirill e il presidente Putin hanno idee che coincidono da almeno 15 anni Kirill ha per la chiesa la stessa visione imperialistica che il cremino ha in politica da molto tempo il patriarca si sente l'unica figura che può tenere unite le terre dell'Urs il vero leader spirituale dell'esimpero sovietico per cui la chiesa ortodossa diciamo così fa capo a lui e lui pensa che l'Ucraina sia sua come proprio come proprio come Putin pensa che l'Ucraina sia di Mosca e Messi invece adesso si è realizzato qualcosa che non si aspettava e c'è che la chiesa ucraina ortodossa si è staccata da Mosca e quindi adesso questo connubio fra Putin e Kirill sta portando a una situazione di lacerazione all'interno della chiesa ortodossa ma non è escluso che questo articolo lo legga in futuro nei prossimi giorni comunque lo metto a disposizione per chi lo vuole approfondire è molto interessante perché c'è questa fusione diciamo così fra Putin e Kirill che è molto pericolosa per la chiesa russa c'è anche un passaggio molto interessante se lo trovo ve lo leggo vediamo che riguarda che riguarda Putin cioè Putin si è convertito o non si è convertito vediamo uno che lo conosce molto bene che ha lavorato anche a fianco di Kirill per tanto tempo e questa è un'intervista appunto a questa persona e vediamo cosa dice della religione di Putin la domanda è Putin ha molto esibito negli anni un certo atteggiamento religioso ma ci crede davvero o usa la religione per ragioni politiche? risponde secondo me Putin è una persona semi religiosa ma certo non è un cristiano sente il bisogno di un elemento mistico misterico forse magico e soprattutto cerca una conferma sacrale a ciò che sta facendo è importante per lui credere che le sue azioni dicevano una qualche conferma dall'alto e Patriarca Kirill con le sue teorie del Ruskimir o la Santa Russia offre a Putin e allo Stato russo la giustificazione che questi cercano per i crimini che commettono contro altri popoli ma anche contro il popolo russo con la censura la repressione e il terrore stamattina leggevo un articolo non so dove credo del Corriere che fra l'altro Putin pratica i riti sciamanici dunque questo è un articolo scritto da Fulvio Scaglione che intervista Sergei Chapnin che è uno dei non molti che possono dirgli conoscere bene la chiesa ortodossa russa e il Patriarca Kirill quindi questa è una intervista molto interessante anche per quanto riguarda la religiosità personale di Putin che è come vi ho detto una forma di superstizione insomma cerca conferme dall'incollito dall'alto di quello che lui sta facendo e forse per quello che ho letto articoli che dicono che lui voleva sapere dal Vaticano che cosa avesse detto la Madonna Fatima a quanto pare questi articoli erano informati comunque come vedete si tratta di una nefasta un nefasto connubio fra politica e religione fra trono e altare per così dire come invece è tutto il contrario di quello che Gesù ha detto insomma e cioè date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio insomma bene adesso cari amici volevo spendere due parole in conclusione per prepararci molto bene alla consagrazione di domani fra l'altro anche la consagrazione di Radomaria cioè di tutta la grande famiglia di Radomaria mondiale alla Vergine dell'Annunciazione allora per quelli che per quelli che praticano il mio blog che cercando su Google cercate blog di vaderivio punto it oppure in alto sul sito di Radomaria radomaria punto it in alto a destra cercate blog di vaderivio c'è l'icona entrate c'è sono due cose che possono interessarvi molto la prima riguarda la bellissima preghiera che il Papa pronuncerà domani pomeriggio che ovviamente noi trasmetteremo per la consacrazione della Russia ai cuori al cuore immacolato di Maria quindi c'è la preghiera del Santo Padre però ho voluto dedicare il pensiero di ieri sul blog per far sì che la consacrazione ai cuori di Gesù e di Maria diventi qualcosa di personale e qualcosa di quotidiano perché in questi tempi in questi tempi cari amici in cui praticamente siamo entrati nella grande tribolazione per usare una parola del Vangelo dobbiamo mettere in pratica quello che ha detto la Madonna il primo gennaio del 2001 quando vato a Maria questo messaggio in modo speciale adesso in cui Satana è libero dalle catene io vi invito a consacrarvi a mio cuore immacolato e a quello di mio figlio Gesù quindi questo dunque il tempo di Satana sciolto dalle catene il tempo della tribolazione cari amici noi siamo invitati a questa consacrazione personale io ve la espongo vi insegno praticamente vi dico cosa faccio io insomma perché molti mi chiedono una formula per la consacrazione ci sono formule classiche che si trovano anche su internet io vi chiedo io farei una una preghiera molto semplice molto breve da recitare ogni giorno con le preghie del mattino con le preghie della sera allora vi leggo sì forse faccio in tempo leggevi una parte di questo pensiero che ho scritto sul blog poi chi lo vuole lo può leggere tutto anche perché ci sono delle mamme che mi chiedono ma io mi consacro come i miei figli mio marito o viceversa si può fare la consacrazione uno dalla famiglia può fare la consacrazione per sé e per tutta la famiglia perché c'è questa rappresentanza naturale poi convalidata dal sacramento del matrimonio che fa sì che poi il papà e la mamma possano rappresentare tutta la famiglia in questi casi dunque cari amici vi leggo qua e là per aiutarvi a entrare in questa dinamica della consacrazione cari amici alla consacrazione della Russia e dell'Ucraina al cuore immacrotto di Maria che il Santo Padre compie venerdì 25 marzo solennità dell'annunciazione dobbiamo unire anche la nostra insieme a quella di tutta la Chiesa in particolare la Regina della Pace ci esorta alla consacrazione dei sacri cuori nel tempo in cui Satana è sciolto dalle catene quindi ambe i due cuori quando ha detto appunto nel messaggio del 1 gennaio del 2001 in modo speciale adesso in cui Satana è libero dalle catene io vi invito a consacrarvi al mio cuore e al cuore di mio figlio quindi sollecito questo invito della Madonna a consacrarci ad ambe i due i cuori però uno vuole consacrarsi al cuore di Maria va benissimo per carità poi lo sappiamo che la Madonna ci porta a Gesù la consacrazione può essere fatta con una formula classica o con parole molto semplici insieme alla preghiera del mattino e della sera ora io vi ho scritto una forma di consacrazione semplicissima che poi uso anch'io uso anch'io durante la giornata cioè supponiamo di essere al mattino all'inizio di questa giornata madre mia se siamo alla sera diciamo al termine di questa giornata madre mia rinnovo la mia consacrazione poi attenzione se se da solo va bene così se no se vuoi mettere anche la famiglia metti anche la famiglia dunque ripetiamo all'inizio di questa giornata madre mia rinnovo la mia consacrazione e quella della mia famiglia al tuo cuore immacolato e al cuore sagratissimo di tuo figlio Gesù ecco fatta la consacrazione cari amici molto semplice però cari amici vi spiego poi qui nel pensiero del mio blog vi spiego che la consacrazione poi al di là della formula deve essere un cammino un itinerario del cuore ve lo risumo brevemente cioè il primo passo di questo itinerario è quello di aprire il cuore cioè questo itinerario della consacrazione lo tratto dei messaggi della madonna cioè il primo passo che la madonna ci richiede è quello di aprire il cuore come quando apriamo la porta di casa per far entrare una persona di cui ci fidiamo il secondo passo che la madonna ci richiede è quello di purificare il cuore perché sia sempre più degno di essere la dimora di Gesù e di Maria il terzo passo che la madonna ci richiede è quello di donarle il cuore in modo tale di essere tutti suoi e di suo figlio Gesù appunto secondo il bellissimo motto di San Giovanni Paolo II totus tuus bene cari amici allora questa è la sintesi se volete leggere anzi vi pregherei di farlo perché a mio parere fare la consacrazione quotidiana in questi tempi di prova è assolutamente necessario comunque sia se entrate nel blog blog di madaliglio.it oppure attraverso il sito che è radomaria.it cliccate in alto adesso dove c'è il post del blog trovate questo pensiero intitolato rinnoviamo la consacrazione e i sacri cuori di Gesù e di Maria il nostro sicuro rifugio nel tempo della tribolazione in modo tale che non sarà solo per domani ma sarà una pratica quotidiana che mette noi i nostri cari i nostri amici le persone che conosciamo li mette quotidianamente sotto il manto della madonna abbiamo terminato cari amici come sempre termine con un ringraziamento di cuore a tutti quelli che stanno aiutando la domenica ucraina a essere la voce di Maria in questo tempo di difficoltà e di sofferenza e di morte e di stenti estremi perché in molte parti manca l'acqua e il pane e manca tutto grazie per questo aiuto grazie per l'aiuto che è fatto anche per l'Africa grazie per l'aiuto che è fatto anche per noi non dimenticate che si trova in una situazione particolarmente disagiata perché gli aumenti delle città sono quasi raddoppiati e questo vale per tutti ma vale anche per i nostri 850 ripetitori insomma se non paghiamo le decità ce la tolgono insomma detto in parole povere comunque vedo che vi date da fare e come sempre la Madonna provvede ringraziamo Dio per tutto stiamo sereni cari amici stiamo in grazia di Dio stiamo nella preghiera facciamo tutto quello che dobbiamo fare ogni giorno come se la vita dovesse continuare tranquilli anche noi portiamo avanti la radio portiamo avanti tutto pensate la testimonianza che vi viene anche da padre LSI direttore di Maria Ucraina che porta avanti tutti i giorni giorno e notte la radio in mezzo alle bombe insomma questo è quello che dobbiamo fare tutti oranti sereni disciplinati caritatevoli e in questo mondo e in questo modo che la Madonna vince restate cari amici sempre in sintonia sulla nostra dolcissima Radio Maria Grazie a tutti Grazie a tutti.